Sì, sono contento di questa scelta, la società ha puntato molto su di me, anche se la Juve ha fatto un po' di problemi per trattenermi, però alla fine si è conclusa meglio. Adesso parola al campo, si vedrà, cerchiamo di lavorare al 100% e fare il meglio possibile. Sì, io ce l'ho messa tutta, ero fortemente deciso a venire qui perché ero convinto che fosse la scelta giusta. Non dimentichiamo tutti i grandi giocatori che sono passati di qui, ho fatto poi belle carriere, belle esperienze in Serie A, quindi è un motivo di orgoglio per me giocare in una bella piazza come Crotone.